volete proteggere al meglio il vostro deck siete alla ricerca di un kit pronto all'uso che soddisfi ogni aspetto della vostra esperienza ludica quali saranno allora gli accessori che risponderanno prontamente alle vostre richieste nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale circa un mese fa ho mandato una richiesta di collaborazione alla game genic la casa madre tedesca ideatrice di articoli fantastici come il watchtower lo stronghold e lo zip up tramite mail un paio di settimane dopo in modo del tutto inaspettato è arrivata la risposta nella loro mi hanno comunicato di aver preso tempo per visionare i contenuti pubblicati sul canale richiedendomi l'indirizzo di spedizione subito dopo e così dopo quattro giorni ancora mi è stato recapitato a casa una sorta di starter kit che dopo aver studiato attentamente sono certo potrà rappresentare una validissima soluzione per tutti coloro che stanno iniziando a muovere i primi passi nell'universo sconfinato dei tcg prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi per voi è solamente un click per il canale invece molto importante in questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati in più non dimenticatevi di seguirmi anche su instagram e la pagina facebook dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora troverete i link in descrizione grazie ancora in anticipo torniamo al video ed ora scopriamo assieme quali saranno i 5 articoli ideali che formeranno lo starter kit ideato dalla game genic in persona andiamo a dargli un'occhiata iniziamo con la prima protezione per il vostro deck ovvero le sleeves a prestare supporto in tal senso ci saranno le prime sleeve in confezione da 100 unità non glare che oltre a preservare le carte al loro interno da graffi pieghe nelle parti angolari e danni dovuti all'usura possiederanno un dorso extra opaco matt perfetto per coprire i colori più accesi costruite in polipropilene senza l'utilizzo di acidi o pvc queste bustine formato standard sono ottime soprattutto se si vuole optare per una soluzione che abbia un rapporto qualità prezzo eccellente e devo ammetterlo la game genic ha lavorato molto sulla struttura per rafforzarle infatti ricordo di aver acquistato una confezione di queste bustine tipo un paio di anni fa e non mi avevano lasciato molto soddisfatto infatti bastava fare una piccola pressione verso l'esterno e la bustina si spaccava senza troppi sforzi al contrario di ora dove sì sarà sempre possibile romperle ma vi servirà una discreta forza per farlo segnale certo che questa casa oltre a deck box ed album di qualità eccelsa ora ha iniziato a potenziare anche i settori dove era debole in più in fase di preparazione ad un match mescolare il mazzo risulterà piacevole evitando che gli elementi vadano a creare forzature indesiderate che a lungo potrebbero creare danni all'intero mazzo inoltre la loro struttura ben pensata consentirà ai più esigenti l'utilizzo senza problemi di inner sleeve insomma c'è da dirlo davvero un ottimo lavoro disponibili in 11 colorazioni diverse al costo indicativo di 7 euro e 50 le matte prime sleeve saranno un ottimo punto di partenza per tutti quei nuovi giocatori che vorranno un accessorio valido per proteggere nel migliore dei modi il proprio deck ottimo prodotto in combinazione anche con l'utilizzo di perfect e a proposito di perfect quante volte vi siete ritrovati a doverle acquistare separatamente non riuscendo le però a trovare presso il vostro rivenditore di fiducia ebbene con il prossimo articolo non dovrete più preoccuparvi di reperirle a parte con il double sleeving pack da 100 bustine infatti potrete mettere le mani su un bundle che andrà a rispondere a due esigenze in un'unica soluzione all'interno della confezione per fornire protezione a 360 gradi alle carte presenti nel vostro deck saranno disponibili 100 più 100 unità rispettivamente bustine più inner ma per queste ultime non si tratterà di una semplice bustina protettiva aderente alla carta con finitura lucida e quindi glare vi assicuro che quando ho visto cosa hanno inserito all'interno del prodotto in questione i signori della game genic ho provato un mix tra sorpresa e perplessità inner sleeve non glare avete capito bene sono perfect anti riflesso ed è strana come scelta di mercato perché di solito questa finitura è specifica per bustine di formato standard o japanese non per un accessorio del genere e quindi per sperimentare con mano l'efficacia di questo binomio l'ho messo a paragone con la controparte lucida utilizzando una bustina standard con inner tradizionale esponendo entrambi i tester alla luce diretta di uno dei fari che utilizzo per le riprese e questo è stato il risultato valutate voi stessi ora io sono un fan segreto delle non glare da sempre mi è piaciuto questo effetto satinato sulla carta e possedere anche delle perfect con questa finitura personalmente non mi dispiace se poi vogliamo parlare anche del fattore inserimento si toccheranno alti livelli vi dico solo che vi basterà un dito per far scivolare senza resistenza l'inner all'interno della bustina stessa arconte e non ci dici nulla sulle bustine protettive già fatto infatti nel pack in questione saranno presenti proprio le prime sleeve che abbiamo trattato poco fa ma di colore nero unica scelta cromatica per il bundle al costo indicativo di 10 euro le matt double sleeving pack 100 ideali soprattutto per chi giocherà commander offriranno tutto il necessario per la protezione totale di ogni singola carta all'interno del deck che utilizzerete per sfidare i vostri amici in match sempre più avvincenti ma assicurare gli elementi del mazzo non basta bisognerà preoccuparsi anche di trasportarlo attraverso un prodotto nato appositamente per lo scopo ovvero un deck box il side holder 100 plus xl sarà il prodotto perfetto per tutti coloro che si affacceranno nello sconfinato universo dei tcg l'articolo si presenterà piuttosto minimale con il logo ed il nome della casa madre assieme ad uno spazio bianco dove poter scrivere sulla parte superiore unicamente il logo ed il nome rispettivamente sulla parte frontale e dorsale ed entrambi questi ultimi con la tipologia di accessorio le informazioni di fabbricazione ed il sito internet riportati sulla parte inferiore una volta aperto il deck box vi permetterà di inserire le carte al suo interno in modo facile e comodo possedendo come ogni altro prodotto di questa linea la tecnologia cobra neck utilissima per evitare che il portamazzo vada ad usurarsi proprio nella parte di giuntura tra il coperchio ed il corpo principale decretando infine la rottura e il conseguente inutilizzo dell'accessorio al suo interno potranno entrare fino a 120 carte con bustina singola o 100 carte con bustina doppia che in quest'ultimo caso lascerà spazio all'interno dell'holder anche per token o segnapunti aggiuntivi ne parleremo fra poco e la presenza di un divisore incluso nella confezione vi garantirà ordine tra mazzi assicurando uno spazio dedicato ad ogni deck per accedere a questi il side disporrà di una scanalatura d'arco sulla parte frontale ed una seconda con forme regolari sul dorso permettendovi di estrarre o inserire qualsiasi elemento presente nel 100 plus in modo comodo ed efficiente a livello di chiusura stabile invece peccherà ma la cosa sarà più che normale questo è un prodotto entre i level calcolate che sul sito ufficiale della casa madre viene catalogato come linea essenziale casual e si sta parlando di un coperchio che quando aderirà alla parte contenitrice lo farà ad incastro e non attraverso calamite per farvi un esempio pratico un side holder in fase di shaking andrà ad aprirsi riversando l'intero contenuto a terra non sostenendo il peso al suo interno mentre se si utilizzerà un side kick linea exclusive con chiusura a magneti integrati esso vi garantirà una sicurezza impeccabile sotto ogni aspetto al costo indicativo di 3 euro e 50 con una selezione di 10 colori disponibili il side holder 100 plus xl rappresenterà la scelta ideale per chi vorrà giocare casualmente andando alla ricerca del proprio dcg preferito forte e resistente nei punti di saldatura costruito in polipropilene senza l'utilizzo di acidi o pvc potrà contenere tutto il necessario per iniziare la vostra avventura nel meraviglioso mondo dei giochi di carte collezionabili ora dopo aver protetto al meglio il deck a 360 gradi sia per le singole carte che nell'insieme vi servirà qualcosa che preservi le bustine da sporco e residui di polvere presenti sui tavoli da gioco e per farlo il prossimo articolo sarà perfetto per rispondere a questa esigenza il prime play mat andrà a fornire quell'ulteriore protezione che vi tornerà utile durante una o più sessioni di gioco con misure 61 x 35 centimetri costruito in gomma naturale alta 2 millimetri antiscivolo nella parte inferiore con superficie ultrafine in tinta questo prodotto rappresenterà un ambiente sicuro dove poter giocare carte ed utilizzare accessori morbidamente imbottito per permettere ad ogni giocatore di innescare le proprie strategie di battaglia nel comfort più totale riporterà infine il logo quasi invisibile della casa madre impresso nella parte alta a sinistra per non dare fastidio a chi lo utilizzerà durante le sessioni ludiche e qui vorrei porre un accento facendo un grande applauso alla game genic bravissimi ma che dici arconte perché bravissimi ti piace il play mat a tal punto no cioè sì è un prodotto davvero molto valido ma non è per questo che il mio applauso ha avuto luogo ma per il logo riportato sul play mat stesso mi spiego meglio più di un anno fa oramai acquistai un tappetino di questa casa produttrice ma notai immediatamente un particolare che non mi piacque affatto questo lettere similmetalliche incollate direttamente sulla stoffa e ciò a lungo andare poteva significare solo due cose o il distacco delle singole lettere o il danneggiamento delle carte a forza di sbattere contro le singole lettere con conseguente distacco delle singole lettere questo fatto fu evidenziato me lo ricordo anche dal professore del tolarian in un suo video ve lo lascerò in descrizione dove parlava per l'appunto di questo fattore negativo non consigliando infine il prime agli appassionati di giochi di carte collezionabili e così decisi di abbandonare l'utilizzo di questo play mat ancora prima di adoperarlo effettivamente optando per altri prodotti simili fino ad un paio di settimane fa quando aprendo la confezione ho constatato che sì la game genic a quanto pare accoglie le critiche costruttive potenziando i propri punti deboli e quindi anche qui non mi resta che fare ancora una volta tanto di cappello alla casa tedesca al costo indicativo di 12 euro disponibile in 10 colorazioni diverse il prime play mat avrà poco da invidiare alla concorrenza migliorato nelle sue criticità questo accessorio avrà tutte le armi a disposizione per essere un ottimo compagno di avventura da utilizzare ogni volta che si vorrà impiegare in battaglia il proprio deck sfruttando tutte le sinergie che esso avrà da offrire quindi dopo aver visionato tutto il necessario per svolgere dei match senza preoccuparsi troppo della salvaguardia delle carte che possiederete nel mazzo rimane un solo aspetto da dover affrontare segnare il punteggio di gioco il double life counter sarà perfetto per lo scopo completamente realizzato in acrilico questo piccolo accessorio sarà perfetto per tenere traccia dei punti vita che vi rimarranno o per le unità che vi separeranno dal successo finale ogni quadrante possiederà sulla superficie un numero variabile da 0 a 9 permettendo di tracciare quindi fino a 99 punti vita o vittoria a seconda del tcg di riferimento con meccanismo rotante ognuno fissato al corpo principale da un perno centrale perfetto per ogni occasione soprattutto perché potrà all'occorrenza entrare comodamente all'interno dell'holder separato dal divisore integrato nella confezione così da poter avere tutto l'occorrente per affrontare un match nel migliore dei modi al costo indicativo di 10 euro disponibile in sei tematiche differenti cinque delle quali saranno dedicate alle terre di magic the gathering il double life counter vi permetterà di tenere traccia di ogni situazione numerica con precisione ed efficacia con il suo design piatto inoltre potrà essere trasportato all'interno dei deck box senza occupare eccessivamente spazio l'accessorio ideale per chi preferirà una soluzione elegante ai tipici dadi a 20 facce questi cinque articoli che abbiamo trattato quest'oggi rappresenteranno di certo il punto di partenza per tutti quei nuovi giocatori che vorranno iniziare la loro avventura nell'universo dei tcg supportati da accessori pratici e sicuri che si adatteranno ad ogni occasione ringrazio ancora quindi la game genic per avermi dato la possibilità di parlare di questi prodotti eleganza protezione ed efficacia saranno i tre termini che rappresenteranno appieno questo kit pronto all'uso che sono certo soddisferà le esigenze di chi inizierà presto a muovere i primi passi nel fantastico mondo dei giochi di carte collezionabili e voi avete già provato gli articoli trattati in questo contenuto e se sì quali come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video